Musiche e solidarietà il 26 dicembre alle 17.30 dalla chiesa di San Michele con Musica Insieme. Di che concerto si tratta? Esatto, Viscantus è alla terza edizione di questo concerto di solidarietà PER che viene organizzato il 26 dicembre alla chiesa di San Michele. Quest'anno alle 17.30 il concerto sarà in favore di Autismo Arezzo e AISM, sezione Arezzo. Il concerto è gratuito, ha offerta libera e il ricavato verrà interamente devoluto a queste associazioni. Quest'anno il concerto è in collaborazione con CAMU che quindi ringraziamo per il patrocinio e vede la speciale collaborazione del primo violino Paolo Cantamessa e la voce recitante di Silvia Martini che ci aiuta a veicolare i testi dei brani proposti. Il cuore del programma è il mottetto di Bach, Jesu Mani Freude. Ecco, un concetto di Natale cosa si potrà ascoltare poi? Naturalmente si potranno ascoltare tutti i brani diciamo inerenti, il tema natalizio, anche se diciamo si tratta di musica classica. Quindi diciamo abbiamo introdotto anche brani diciamo oltre come evoca quello di Bach, ma il cuore, il programma è Bach. Ecco, un concerto di solitarietà insomma l'invito è aperto tutta la cittadinanza. Assolutamente sì, abbiamo cercato di fare il massimo della pubblicità possibile perché anche nello spirito di diciamo inclusività che vuole avere questa iniziativa sarebbe bellissimo avere tanta partecipazione affinché anche diciamo queste due associazioni appunto AISM e Autismo fossero valorizzate al massimo come visibilità anche insomma nella nostra cittadina e sono molto contenta anche del fatto che siamo stati sostenuti quest'anno come vedrete poi anche nella locandina da alcune realtà importanti e inserite bene nel contesto cittadino.